bene ciao cari amici della coppa del mondo di sci alpino qui a plan del corone sono qua oggi insieme a manuela moel che andrà a presentarci i punti più importanti di questa pista erta nera una delle black five con molte particolarità andiamo buongiorno a tutti qua ci troviamo adesso alla partenza del della nostra gara e siamo a quota 1.570 ci siamo spostati giù un po per arrivare a un minuto e 15 più o meno e questo pezzo qua si chiama paola paola paolina eccoci adesso qua abbiamo passato il pezzo pianeggiante della pista e qua ci spostiamo in zona spona dove ci saranno poi questi questi dossi da lavorare bene e da essere molto reattivi eccoci dopo questa bella sciata giù per questi dossi adesso ci buttiamo dentro nella paro dal pec a una percentuale di 61 per cento e sarà tosta qua e poi portare giù tutta la velocità stare alti e far andare lo sci super ecco qua come vedete ci troviamo molto all'ombra e la particolarità di questa pista soprattutto nella seconda manche sarà che si troverà tanto all'ombra e adesso ci spostiamo poi giù all'arrivo proprio bella questa discesa e adesso qua ci troviamo al parterre dove stanno allestendo tutto e venite tutti a trovarci il 24 gennaio e fateci il tifo ciao ciao